Dopo aver parlato tanto di Chiara Ferragni è arrivato il momento di parlare della nemica di Chiara Ferragni, ovvero Selvaggia Lucarelli, perché Selvaggia Lucarelli dopo aver colpito pesantemente la nostra Chiara causandone la caduta, perché vi ricordo che tutto quello che è capitato a Chiara è stato causato dal fatto che inizialmente fu proprio Selvaggia a sgamare questi raggiri riguardo alla beneficenza e se Selvaggia si fosse fatta ai cazzi propri probabilmente ora Chiara non sarebbe in questa situazione. Ma siccome il karma arriva per tutti, purtroppo negli ultimi giorni, nell'ultimo periodo, anche Selvaggia è stata vittima di una fortissima gogna mediatica causata da una questione molto 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 delicata di cui parleremo in questa puntata di Diva Podcast, quindi sigla e a tra poco. Rappresento le stronze, le manipolatrici, le arviste. Essere perfetta è una priorità fondamentale. Questa è la mia vita da narcisista. Benvenuti in Diva Podcast. Eccoci qui. Allora, praticamente ormai questo podcast è diventato il podcast di una stronza che parla di altre stronze. Cioè qua veramente possiamo fare proprio il raduno delle stronze manipolatrici a riviste, eccetera, eccetera. Allora, parliamo di Selvaggia Lucarelli. Tra l'altro poi vi dirò la mia opinione in merito, che forse si discosta un po' da chi pensa male di Selvaggia. Però, insomma, ovviamente io sono sempre sincera e dico quello che penso. A me Selvaggia piace o non piace, l'amo e la odio, è un po' come tutti, nel senso che talvolta esagera anche lei un po' con il moralismo, quando in realtà lei è una persona estremamente spietata verso ciò che la circonda. Quindi non credo che Selvaggia sia falsa. Io credo che Selvaggia sia... Questa cosa però l'ho fatta anch'io, quindi comunque già la capisco un po' di più rispetto a Chiara. Che io, sapete che sono tutto fuorché moralista, e anzi sono contro i moralismi, però talvolta ho utilizzato il moralismo per sputtanare qualcuno. Cioè, quindi questa arma che usa Selvaggia è un'arma ma non implica che lei sia una moralista, è un'arma che può servire appunto per sputtanare il prossimo, e lei è una grande sputtanatrice del prossimo. Quindi devo dire che i miei sentimenti verso Selvaggia vertono più verso l'amore. E questo so che molti di voi non sono d'accordo, so che lei è molto molto odiata, so che quello che fa è considerato forse estremo, esagerato, perché di fatto fa del male alle persone talvolta, e questo è il caso. Parliamo proprio di questo caso in cui è successo quello che è successo e andremo ora a parlarne. Però credo che ognuno sia libero di svolgere la propria professione come preferisce, e lei, in quanto giornalista, se così si può dire, investigativa e sputtanatrice, fa quello che deve fare. E non dimentichiamo che, tra l'altro, Selvaggia ha anche aiutato a scoprire i fatti di M-Team. Tra l'altro ci sono degli aggiornamenti su M-Team, fatemi sapere se volete che io ne parli in un prossimo podcast. Quindi io credo che Selvaggia sia molto utile nella società web, quantomeno. Anche nel caso di Chiara è stata d'aiuto, non per Chiara, ma per aprire gli occhi delle persone che altrimenti, da qui all'eternità, avrebbero creduto a tutto quello che veniva propinato da Chiara o da altri influencer che fanno più o meno gli stessi magheggi, diciamo, no? Comunque, perdonate il mio look di oggi, cioè questa maglia e i pantaloni leopardati del pigiama, ma però è tardi, è tipo mezzanotte e mezza, e sto girando questo podcast a mezzanotte e mezza, quindi ultimamente sto facendo degli orari un po' così. Che cosa è successo? Che cosa what happened? Allora, è successo che io premetto che mi sono persa tutta questa roba qui perché io stavo appresso alle notizie sulla Ferragni in quanto ne ho trattato nel mio podcast nell'ultimo periodo che vi ricordo è un podcast di attualità raccontato da una stronza, quindi comunque alla mia maniera, però, tratto di attualità. Quindi ero dietro alla cosa, perché poi io, ma a me piace fare le saghe, no? Le saghe di M.T.M., la saga di Della Ferragni. Queste saghe di attualità mi piacciono molto. E quindi io non mi sono minimamente accorta di questa cosa che è capitata fino a che poi non è successa la tragedia, l'epilogo. Comunque pare che, insomma, due settimane fa, c'è comunque in tempi recenti su una pagina di un ristorante, di una pizzeria, è apparso sulla pagina Facebook, è stato postato dalla proprietaria di questa pizzeria che teneva anche la pagina Instagram o Facebook, credo, una recensione insieme ad una risposta, uno screen di recensione e risposta. E questa recensione di un cliente diceva Mi hanno messo a mangiare di fianco a dei gay. Non mi sono accorto subito perché sono stati composti. E un ragazzino in carrozzina che mangiava con difficoltà. Mi spiaceva, ma non mi sono sentito a mio agio. Peccato perché la pizza era eccellente e il dolce ottimo. Ma non andrò più. Insomma, questa recensione che appare un po' strana era perché, ma chi è che il mondo è pieno di merde, per carità, però lamentarsi perché si è vicino ad un disabile o a dei gay, c'è tra l'altro gay composti, quindi, cioè, vabbè, comunque, se erano composti e quindi immagino non si siano messi a, insomma, farsi i soffocotti a vicenda, potevano anche essere due amici, no? Nel senso, come faceva questa persona a sapere che erano due omosessuali, anche fosse, no? Togliendo, ovviamente, il fatto che cosa gliene frega? Cioè, nel senso, anche se una persona può essere, avere le sue idee, ancora al giorno d'oggi purtroppo esiste l'omofobia, però, cazzo ne frega di chi è vicino al ristorante, stessa cosa per ragazzini disabili. Quindi suona un po' strana questa recensione, effettivamente. E quindi, vabbè, già di per sé suona strano. E sotto la risposta della proprietaria del ristorante che giustamente scrive Egregio cliente, apprezziamo il suo impegno per valutare il nostro servizio attraverso la sua recensione. Nonostante questo, ci tenevo a farle presente che il nostro locale è aperto a tutti e i requisiti che chiediamo ai nostri ospiti sono l'educazione e il rispetto verso ognuno. Le sue parole di disprezzo verso ospiti che non mi sembra vi abbiano importunato mi sembra una cattiveria gratuita e alquanto sgradevole. Ci tengo inoltre a sottolineare che non è passato inosservato il suo sguardo infastidito anche verso il ragazzino in carrozzina. Detto ciò, a fronte di queste bassezze umane di pessimo gusto, credo il nostro locale non faccia per lei. Non selezioniamo i clienti in base ai loro gusti sessuali, nemmeno che la disabilità. Le chiedo gentilmente di non tornare da noi a meno che non ritrovi in sé i requisiti umani che nel suo atteggiamento sono mancati. Cordiali saluti e buona serata. E io qua, cioè io adesso non ho ancora letto perché leggerò direttamente nel podcast l'analisi che è stata fatta dal compagno di Selvaggia, però io già qua noto che è la stessa persona che ha scritto perché se guardate non mette la maiuscola all'inizio delle frasi mi hanno messo a mangiare poi dove c'è un punto a mio agio, punto, peccato. Vedete che non mette questa persona il caps lock iniziale, cioè la maiuscola all'inizio. Stessa cosa fa la proprietaria, egregio cliente, il nostro locale, non selezioniamo, le chiedo. Dopo ogni punto non viene mai messa la maiuscola. Quindi mi sembra già così evidente che la recensione sia stata scritta dalla stessa persona. Cioè, a prima occhiata, eh. Ripeto, io non ho ancora letto perché ho salvato tutto qui ma non ho letto prima. Che è una cosa, tra l'altro, cioè, almeno leggere gli articoli prima di registrare il podcast per sapere che cosa dirò nel video, nel podcast, ma io non lo faccio perché io improvviso tutto. Ebbè, i professionisti improvvisano. Insomma, comunque, la signora proprietaria del locale si chiamava Giovanna Pedretti, che purtroppo, poi, appunto, l'epilogo verso questa signora è stato drammatico. e andiamo a vedere che cosa è successo. Il compagno di Selvaggia, Lucarelli, che si chiama Lorenzo Biaggiarelli, Lorenzo fa tipo un debunking, così si dice, riguardo a questa recensione. Perché fa questo post, Lorenzo? Perché nel frattempo questa recensione che è stata postata sulla pagina della pizzeria della signora ha fatto un po' il giro del web e forse anche dei programmi TV. Questa cosa non l'ho capita bene perché io non guardo la televisione e quindi non mi sono totalmente accorta di questa vicenda, però pare che la signora sia diventata un po' un'eroina nazionale per via di questa risposta. E allora, probabilmente Lorenzo ha capito che c'era qualcosa che non andava e infatti ha scritto la notizia del giorno è quella di una pizzeria che riceve una recensione omofoba e abilista su Google. Risponde con forza, pubblica lo screenshot sui propri social, riceve centinaia di commenti positivi e di recensioni e cinque stelle di incoraggiamento. Eppure, diamo un'occhiata allo screenshot, sembra falso. Vediamo se anche lui ha notato questa cosa delle minuscole. Allora, lui dice il font. Il font della recensione, come quello della risposta, è diverso da quello usato da Google. Google Maps usa Product Sense, mentre questo è un altro. Sembra della famiglia futura, anche se non sono esperto di font. Guardate la forma della A di proprietario e quella di apprezziamo. Sono diversi pure l'interlinea, la distanza tra le righe e la spaziatura. Quindi qua lui parla di font. Io qua non ho presente quale sia il font di Google. Però, diamo per buono. le scritte di Google, risposta del proprietario, sei recensioni, gli stessi loghi, sono sgranati, mentre il corpo del testo è perfettamente a fuoco. Poi, alcune lettere escono dalla linea immaginaria tracciata dai tre puntini in alto. È il format standard di Google. Le parole restano sempre all'interno di quella linea e lo sforano di poco. ma in nessun caso una parola comincia dopo quel limite come qui invece accade agio più e gusto. Agio più e gusto. Io adesso non ce l'ho più davanti quindi non posso verificare però mettiamo qua intorno le foto insomma così potete verificare voi. Ah, e qua ci siamo. Sia la recensione che la risposta presentano simili errori di ortografia il più evidente è la minuscola dopo tutti i punti sembrano scritte dalla stessa mano infatti questa è la cosa che ho notato anch'io. Lo stesso testo della recensione è pericolosamente simile a un'altra scovata da Valentina di Rindin su Dissapore che a suo tempo destò le stesse reazioni. Va detto che quella però almeno tecnicamente era verosimile cioè praticamente a quello che ho capito c'è stata in passato un'altra recensione simile postata in un altro momento su altri spazi che però appunto era simile a quella di cui stiamo parlando. Insomma siamo sicuri che questo screenshot sia autentico in ogni caso nulla gli ha impedito di diventare una notizia di occupare le home page di tutti i quotidiani online di scatenare un'ondata di solidarietà umana verso una pizzeria che a quanto pare offre iniziative benefiche a favore di persone con disabilità eppure a me da fastidio se lo screen fosse davvero falso ci troveremmo di fronte a parecchie implicazioni scomode non solo l'utilizzo di abilismo e omofobia come leva di marketing ma anche l'inesistente controllo della veridicità del materiale digitale da parte della stampa vabbè allora qua diciamo che vi posso dire proprio ripeto già detto ripetuto in varie salse che non ci dobbiamo fidare di quello che scrive la stampa perché molte news non vengono verificate e vengono lanciate semplicemente per fare hype e fare soldi naturalmente fare click senza appunto le dovute verifiche quindi non fidatevi mai di quello che leggete sui giornali quantomeno non fidatevi totalmente ok poi Lorenzo fa un altro post in cui dice di avere chiamato la titolare ho chiamato la titolare della pizzeria della recensione omofobia e abilista visto che appena dichiarato a una giornalista che la sua recensione è vera e che non si aspettava tutta questa cattiveria perché poi naturalmente quello che era stato inizialmente un'ondata di di lodi verso questa persona si è trasformata in una shitstorm non si capisce quale cattiveria visto che ha tutta la stampa e la tv che la osannano e solo due o tre stronzi che hanno provato a sollevare dei legittimi dubbi sulla storia ma va bene così la telefonata è durata sei minuti le ho chiesto se lo screenshot fosse vero mi ha detto che è vero che ha allargato e messo in evidenza la sua risposta quindi modificandolo le ho fatto presente che il font non è lo stesso di google da cui dovrebbe provenire la foto e mi ha risposto che era andata dai carabinieri per tutelarsi su questa cosa e dare la sua versione le ho detto che bastava che mi mandasse lo screenshot originale ma mi ha detto di averlo cancellato per fare spazio sul telefono perché lo usa anche per fare i menu provo un'altra strada e le chiedo come sia possibile che l'autore di quella recensione il cui screen è stato pubblicato sulla pagina di facebook del ristorante l'altro ieri con il testo che diceva 18 ore fa sia già tornato dal suo ristorante e lei l'abbia riconosciuto e messo alla porta come dichiarato da alcuni giornalisti lei risponde che la recensione in realtà è vecchia forse di aprile o maggio e che l'avventore si è ripresentato pochi giorni fa e lei l'ha riconosciuto anzi ha avuto la sensazione che fosse lui che gli era rimasto impresso il viso ma non è un abituale e a quel punto che ha deciso di resumare una recensione di otto mesi prima che ai tempi non aveva pubblicato per non abbassarsi al suo livello postarla su facebook dopo averla modificata ingrandendo ed evidenziando la sua risposta e poi cancellarla definitivamente dal telefono le dico che mi sembra strano che cancelli proprio oggi dal telefono una recensione che ha tenuto in archivio addirittura da aprile lei mi dice che non l'ha cancellata mica oggi ma mesi prima le chiedo come abbia fatto a pubblicarla ieri se l'avesse cancellata mesi prima lei mi dice che deve lavorare e mette giù per me finisce qui a meno che non mi convochino i carabinieri finisce qui anche per umana pietà per la signora e per la sua attività vittima un po' del proprio goffo tentativo di ribalta ma soprattutto di chi ha trasformato una piccola storia dalla dubbia veridicità in un caso nazionale scusate non riesco a leggere a quest'ora è luna di notte praticamente e insomma questo è il post di Lorenzo che ovviamente è stato condiviso anche da da selvaggia che cosa è successo a seguito di ciò è successo che i giornalisti hanno iniziato a fare delle domande alla signora e ovviamente anche il web si è rivoltato contro la signora creandosi appunto una shitstorm e quindi purtroppo la signora Giovanna si è tolta la vita ed è stata ritrovata insomma suicida qualche giorno fa a seguito di tutta questa questione apriti cielo ovviamente fatto gravissimo e la Lucarelli selvaggia insieme al suo fidanzato vengono accusati dal web dal tribunale del web di istigazione al suicidio e di insomma crudeltà cattiveria eccetera eccetera Lucarelli ti sei dimostrata per quello che sei te lo meriti di finire male nell'oblio per sempre insomma vabbè tutte queste odio verso selvaggia Rea insieme al suo fidanzato di avere smascherato questa recensione falsa chiaramente da qua iniziano delle indagini viene poi stabilito che si tratta di suicidio che la morte si tratta di suicidio e vediamo che cosa dicono qua gli articoli la verità sulla morte di giovanna pedretti nel suo cellulare il marito ossessionata dai commenti negativi nel telefonino della titolare della pizzeria delle vignole dovrebbe trovarsi lo screenshot della presunta recensione con data l'indagine chiede collaborazione a google la verità sulla morte di giovanna pedretti si trova sui suoi cellulari la titolare della pizzeria le vignole a sant'angelo lodigiano ne aveva due uno è stato ritrovato nella sua panda sulle rive dell'ambro quello personale invece è finito in acqua con lei in uno dei due dovrebbe trovarsi lo screenshot che pedretti dice di aver fatto della recensione che accusava il locale di avere gay e disabili tra i clienti a cui lei ha risposto dopo la sua cancellazione usando un programmino come ha detto i carabinieri se non si trovasse nulla a parte le altre incongruenze della sua versione questo costituirebbe un ulteriore elemento a favore delle accuse di falso il marito Agnello Davino detto Nello che l'ha accompagnata al colloquio con i militari ha detto che la moglie era ossessionata da quei commenti negativi la procura di Lodi indaga per istigazione al suicidio si tratta di un'ipotesi di reato ad oggi senza indagati ma l'apertura dell'inchiesta serve per effettuare gli accertamenti ovvero l'autopsia e appunto l'analisi dei telefoni ma anche la richiesta a Google di confermare o meno l'esistenza della recensione che potrebbe anche chiudere il cerchio sull'indagine Nello racconta il fatto quotidiano ha anche spiegato ai carabinieri che la moglie era diventata silenziosa nelle ore precedenti alla morte non aveva risposto alle sue esortazioni di dimenticare tutto ossessionata dall'idea di essere diventata prima un'eroina e poi una truffatrice in poche ore ossessionata dall'idea di essere diventata prima un'eroina e poi una truffatrice in poche ore gli inquirenti analizzeranno anche le celle telefoniche e le chiamate per cercare di capire se qualcuno ne abbia fatta una che ha fatto crollare la donna che ha ribadito anche ai carabinieri l'esistenza del post del post prima della sua cancellazione non l'ho scritto io il post esiste avrebbe ripetuto sostenendo anche che aver rivisto la persona che secondo lei aveva scritto la recensione nel locale l'ha fatta decidere di realizzare e pubblicare la risposta artefatta lo screenshot del telefono ricordato era datato aprile 2023 il procuratore di lodi Maurizio Romanelli potrà accertare la verità oddio non riesco a leggere il procuratore il procuratore di lodi Maurizio Romanelli potrà accertare la verità sempre che google collabori Giovanna aveva sofferto molto per la morte del fratello Stefano anche lui suicida in quei giorni cadeva la ricorrenza della morte la famiglia ha nominato un'avvocata che gestirà i rapporti con la stampa dopo gli assedi di questi giorni Angela Giulia cugina di Giovanna ha spiegato all'agenzia di stampa Ansa che il lavoro era la priorità della donna proprio sul lavoro è stata bastonata ha detto ed è per quello che non avrebbe retto di questa signora morta non importa nulla nessuno ognuno la sta usando per banchettare alla sua tavola ha scritto ieri Selvaggia Lucarelli l'opinionista ha difeso anche il fidanzato Lorenzo Biaggiarelli primo a notare l'incongruenza della recensione una persona che si occupa di cibo e ristorazione sensibile e pacifica ma che ha avuto due sfortune che la povera signora si sia suicidata e che ha il mio fidanzato se ogni volta che una persona finisce sulle cronache criticata per qualche motivo si suicidasse i giornali dovrebbero chiudere nei giorni scorsi la figlia di Giovanna Fiorina Davinio ha scritto che la Lucarelli aveva massacrato la madre allora allora qua diciamo che la questione è molto molto delicata certamente poi qui abbiamo un altro articolo che riguarda quella recensione simile vediamo che cosa dice si infittisce il mistero sulla morte di Giovanna Pedretti nel 2002 nel 2022 una recensione identica alla sua scatenò la polemica su una bruschetteria la recensione omofoba e abilista pubblicata dalla pizzeria Le Vignole da Giovanna Pedretti è molto simile a un'altra del 2022 persino gli orari dell'invio dei messaggi della risposta dei titolari coincidono proprio i punti di contatto tra i due testi sono stati alcuni degli elementi che hanno spinto il food blogger Lorenzo Biagiarelli e il giornalista del TG3 Iari Pilati a chiedere chiarimenti a Pedretti non vorrei essere caduta in un tranello in una trappola aveva detto la ristoratrice alle telecamere del telegiornale prima di rientrare nel locale domenica 14 gennaio è stata ritrovata morta nelle acque del fiume Lambro la prima recensione era stata lasciata alla bruschetteria Faedo di Monte di Malo in provincia di Vicenza ed era stata ripubblicata al 12 aprile 2022 in uno screenshot su un gruppo Facebook anche in questo caso il cliente si lamenta per essere stato messo in un tavolo vicino a un gruppo gay ma apprezza comunque quello che ha mangiato peccato che la bruschetta era molto buona infatti qua la recensione dice mi hanno messo a mangiare di fianco a dei gay e sinceramente non mi sono sentito a mio agio durante la consumazione peccato perché la bruschetta era molto buona e anche la risposta caro cliente apprezziamo per il suo impegno di valutare il nostro servizio attraverso la sua recensione nonostante questo la invitiamo a non tornare a consumare la nostra bruschetta in quanto nel nostro locale accettiamo tutti tranne gli omofobi ci scusiamo davvero per il disagio non avevamo capito che venisse dal medioevo a saperlo l'avremo messa a mangiare nella porcilaia dove probabilmente si sarebbe trovato a suo agio qua però vediamo che qua ci sono le maiuscole ed è scritto le due recensioni sono scritte correttamente con le maiuscole quando devono esserci dopo i punti quindi non è stato fatto un copia e incolla ma al massimo è stato preso spunto è stato copiato questo questa recensione però con gli errori ortografici della persona che ha poi copiato e riscritto il tutto la recensione è molto simile a quella lasciata alla pizzeria alle vignole con la differenza che in questo caso il cliente loda al posto della bruschetta la pizza e il dolce che ha mangiato ecco le espressioni che tornano identiche nelle due recensioni mi hanno messo a mangiare di fianco a dei gay non mi sono sentito a mio agio peccato perché e queste cose vabbè le abbiamo già lette identico anche l'orario di pubblicazione delle recensioni negli screenshot 18 ore fa e quello di risposta dei titolari 16 ore fa e insomma quindi abbiamo capito abbiamo capito che questa recensione io devo dire che anch'io è visibilmente una recensione falsa in tutto e per tutto ora la signora Giovanna Pedretti sicuramente non era una persona con credo le skill adeguate per creare una recensione falsa perché non parliamo di una parliamo di una signora di una certa età che io dubito altamente che si sia messa a smanettare con photoshop poi non so però sinceramente io ho qualche dubbio ho qualche dubbio che insomma si sia messa lì con le app con insomma le app di ritocco fotografico e cose varie per creare uno screen falso oppure con qualche altro programma per creare non lo so cioè sinceramente ho qualche dubbio in merito poi tutto può essere magari la signora era avanzata tecnologicamente perché poi a vederla così senza andare lì nello specifico a parte questa cosa delle lettere minuscole però io ci avrei creduto anche perché non sono esperta di recensioni google di come appaiono quindi ci avrei creduto tranquillamente non era una cosa fatta male a livello grafico quindi quello che posso pensare non lo so magari falsa è falso credo che non ci sia dubbi che la recensione sia vera credo che sia una recensione falsa pubblicata per non so se per fare pubblicità locale quindi con uno scopo pubblicitario oppure così per gioco non ne ho idea perché poi la signora non è che poteva valutare di diventare virale perché su facebook sapete quante persone pagine cose pubblicano roba ma da qui a diventare virale posso presumere magari un nipote un nipote un amico della signora più giovane e avanzato tecnologicamente aver fatto questa cosa qui un po' falsa cioè non lo so non 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 mi do una spiegazione riguardo a questo ma fatto sta che di vero in questa recensione evidentemente c'è ben poco in più è uscito fuori che la signora aveva dei problemi psichiatrici quindi che una persona con problemi psichiatrici possa inventarsi qualcosa di falso è plausibile cioè non è che servono problemi psichiatrici per fare cose false però ci sta nel senso no una persona che magari soffre di depressione che soffre di disturbi può anche fare delle azioni non proprio lecite talvolta però il motivo io credo della morte sicuramente è stato legato al casino che è successo questo è ovvio che sia stato legato al casino che è successo però dato che questa signora aveva un fratello che anch'esso si era ucciso per depressione mi viene ovviamente da pensare che in questa famiglia ci fossero dei problemi psichiatrici dei disturbi psichiatrici a carattere ereditario come può essere la depressione e che quindi fosse appunto un male di famiglia che dopo aver colpito il fratello ha colpito anche lei queste cose succedono queste malattie perché la depressione è una cosa bruttissima e si tratta di una vera e propria malattia è anche genetica cioè è anche ereditaria quindi è plausibile che più persone nella stessa famiglia abbiano questa tendenza e quindi di chi è la colpa fondamentalmente di nessuno io sono contraria e qua lo dico a chi in colpa selvaggia perché selvaggia fa il suo lavoro il suo lavorato giornalista il fidanzato di selvaggia essendo un food blogger fa il suo lavoro da food blogger e quindi adesso non so che cosa faccia nello specifico però ci sta che un food blogger possa avere la sua opinione e fare la sua analisi sulla recensione di una pizzeria nel senso che quello è un po' il suo campo del cibo quindi ci sta ci sta come cosa e io credo che assolutamente non ci sia nulla di male io credo che ognuno sul web ha la propria libertà di fare ciò che vuole in modo lecito quindi non in modo diffamatorio non in modo offensivo e che mi sembra che nel post di Lorenzo non ci fosse assolutamente niente di maleducato offensivo verso la signora nel momento in cui una notizia diventa virale perché i giornali la fanno diventare virale senza eventualmente verificarne le fonti però qua non do neanche tutta questa colpa ai giornalisti perché i giornalisti sono giornalisti in questo caso specifico in altri però i giornalisti sono giornalisti non sono degli esperti di grafica e quindi se una notizia diventa virale sul web ci sta che loro la riportino loro stessi cascando nella cosa quindi sicuramente a volte i giornalisti si perdono a dare delle notizie oltre che non verificate come questo è il caso e di altri casi anche delle notizie che riguardano persone comuni che magari andrebbero lasciate perdere nel senso che una persona come la signora Giovanna una persona comune non ha gli strumenti necessari per affrontare sia un'esaltazione sia un hype positivo che un'agonia mediatica cioè una persona che non ha mai avuto esperienze di questo tipo chiaramente anche davanti ad un hype positivo viene messa in una condizione di stress di anche magari di euforia che però non sa gestire diventare famosi all'improvviso come anche tra l'altro può capitare anche chi vince la lotteria che improvvisamente diventa ricco che sia incapace totalmente infatti di solito le persone che improvvisamente diventano ricche spesso poi perdono tutto perché non sono in grado di gestire quella ricchezza non hanno la mente allenata per poter gestire quella ricchezza questo è una cosa è un problema spesso di chi diventa ricco velocemente senza essere stato allenato in modo graduale a gestire imparare a gestire i propri soldi quindi questa è una cosa abbastanza comune nel caso della signora da un giorno all'altro essere in hype chiaramente è una cosa difficile da sopportare e in più dopo quell'hype che comunque era positivo che comunque magari le ha dato alla signora dei momenti di gioia il down il tracollo il diventata da eroina appunto a truffaldina è una cosa pesantissima ancora più pesante ma questo non toglie che se una notizia diventa virale chiunque io selvaggia il compagno di selvaggia qualsiasi giornalista qualsiasi influencer qualsiasi personaggio web o qualsiasi anche persona comune ha diritto di opinione ha diritto di opinione sulle notizie di cronaca e di attualità io faccio ad esempio questi video questi podcast sulle notizie di attualità anche chi dice è mai criticato la Ferragni così io non ho criticato perché se io volevo criticare la Ferragni lo facevo da anni se avessi avuto qualcosa contro la Ferragni ma non mi sarei mai permessa di dire dal nulla la Ferragni è una falsa approfittatrice anche se lo pensavo non l'ho mai detto lo dico adesso perché perché è una notizia di attualità è una notizia di cronaca e quindi io ho diritto in quanto cittadina in quanto personaggio pubblico in quanto influencer di dire la mia opinione sulla notizia di cronaca sia che riguardi la Ferragni sia che riguardi la recensione di Giovanna Pedretti ho diritto di poterlo fare ho diritto di dire la mia ho diritto di parlare ho diritto di commentare una notizia che sta sui giornali perché nel momento che una notizia sta sui giornali che è virale è una notizia di rilevanza nazionale e che quindi le persone hanno diritto a commentare e a dire la loro perché altrimenti se vogliamo metterci a criticare questo diritto di dire la propria passiamo alla censura passiamo alla censura poi Selvaggia e anche altri diciamo anche altre persone sul web hanno incolpato appunto i giornali di aver diffuso una notizia che non andava diffusa e che il problema risiede più non tanto nei social quanto nel giornalismo da quattro soldi tutto può essere tutto può essere io in questo caso non darei particolarmente la colpa a nessuno se non al fatto che questa persona aveva disturbi psichiatrici e quindi ancora una volta siamo nella situazione di dover dire ancora una volta che in Italia non c'è educazione non c'è prevenzione per quanto riguarda disturbi psichiatrici psicologici perché esattamente come succede quando le donne vengono uccise e quant'altro spesso ci sono delle grosse ombre delle grosse lacune dal punto di vista psicologico tra l'altro anche chi dà la colpa al patriarcato quando è colpa di disturbi mentali e tra l'altro ho girato un podcast che deve uscire in cui parliamo proprio di questo argomento di femminismo patriarcato eccetera in cui tocchiamo anche queste prossimamente uscirà anche questo podcast che è lì che sta decantando per uscire perché do comunque precedenza alle notizie del momento il problema è che tutti è colpa di questo del patriarcato della Lucarelli del fidanzato della Lucarelli ma nessuno dà la colpa al fatto che in Italia non queste persone con dei problemi non solo non ricevano aiuto ma loro stesse non sappiano che devono farsi aiutare quando invece si devono fare aiutare perché se una persona con disturbi psichiatrici pubblica qualcosa di falso e poi viene appunto criticata e si suicida qui di chi è la colpa no sei tu che pubblichi cioè se non sei in grado di sopportare un'agonia mediatica o delle critiche non devi tu esporti sui social non ti devi esporre la signora si è esposta e poi non ha retto e quindi il problema è che manca un'educazione psicologica il problema che andrebbe fatta tra l'altro anche verso i social cioè adesso che ci sono i social è una cosa che ho notato degli psicologi in generale anche quando parlano insomma di quello che loro giustamente hanno studiato noto che però non vengono mai presi i social in considerazione cioè ad esempio faccio un esempio stupido io che vengo considerata una persona che tende un po' ad isolarsi socialmente sempre un po' sulle mie una solitaria però in realtà non è così sì perché io vivo sui social quindi è vero che magari fisicamente non sto in mezzo alle persone ma non non sono isolata socialmente perché sto sui social io comunico ogni giorno sui social sia con voi che con i miei amici io sono sempre in contatto continuo con le persone e quindi viene meno il discorso di isolamento sociale e quant'altro e quindi questa socialità virtuale come la consideriamo ecco questo è qualcosa di nuovo che chiaramente non è magari ancora stato scritto nei libri di psicologia e quindi c'è una lacuna una grossa lacuna da questo punto di vista e cioè secondo me esistono anche dei disturbi nuovi che riguardano esclusivamente il mondo virtuale perché ormai la nostra vita è a metà tra la realtà e i social cioè chi come me è più nei social per una questione di lavoro perché poi se ci lavori è chiaro che poi la tua vita si svolge principalmente a livello virtuale quando lavori sui social se lavori nella realtà che lavori in un negozio fisico ovvio che la tua vita sarà principalmente nel reale e però abbiamo tutti una doppia vita chi più chi meno chi più da una parte chi dall'altra e questo non viene ancora considerato io sono sicura che ci siano appunto delle dinamiche che accadono solo sui social che ci siano dei disturbi nuovi correlati ai social delle dipendenze che però è un mondo ancora nuovo e credo che la psicologia dovrebbe aggiornarsi su questo e curare anche questo e soprattutto che questa persona che hanno questi disturbi vengano programmate gli venga insegnato a tutti noi dovrebbe venire insegnato fin dalle scuole che se ci sentiamo troppo tristi se la nostra vita sentimentale va a rotoli se stiamo male nelle relazioni amorose vuol dire che c'è qualcosa che non va nella nostra testa e come esattamente si va dal dottore con il mal di pancia dovremmo andare dallo psicologo quando abbiamo questi disagi mentali che sono a tutti gli effetti dei disagi questo manca e io attribuisco la colpa a questo non a Selvaggia Lucarelli non al fidanzato di Selvaggia Lucarelli ma ancora una volta alla mancanza di cultura sulla psicologia e sulla salute mentale quindi fatemi sapere cosa ne pensate questo è quello che penso io vi aspetto nei commenti e noi ci vediamo alla prossima puntata di Diva Podcast